La lotta contro la droga è uno dei punti più importanti dell'agenda di governo. Il Viminale ha appena reso noti i risultati del piano scuole sicure 2018-2019 sul contrasto allo spaccio e al consumo delle droghe tra i più giovani. Nel piano per il biennio 2019-2020 non solo sono aumentati i fondi stanziati e il numero di comuni e regioni coinvolti ma anche le scuole interessate. Allora ne parliamo con il prefetto di Firenze Laura Lega, benvenuta, con Rosario Sorrentino neurologo e con Barbara Ciabò, presidente dell'Associazione Fragilità e Dipendenze di Milano. E allora, prefetto, Firenze è uno dei capoluoghi che ha raggiunto i risultati migliori nel piano scuole sicure. Vorrei vedere nel dettaglio se la regia favorisce la tabella i numeri dell'operazione. Eccoli qua. Ci ricommenta. Sono stati numeri importanti, è stata premiata un'azione sinergica tra Stato in parternariato con gli enti locali. È stato un test importante. Da novembre 2018 a maggio ci sono state azioni congiunte tra le forze di polizia, tra la polizia locale e le polizie statuali che hanno portato a più di 700 controlli sul territorio. Cioè prefetto, se mettiamo a pieno schermo quella tabella, la salta subito all'occhio. Le sono stati messi, come diceva prima Valentina, più soldi. Quest'azione è stata possibile anche grazie alle maggiori risorse stanziate, no? Firenze ha ricevuto 96 mila euro. Il progetto complessivo per l'Italia per il 2018 è stato di 2 milioni e mezzo. Ovviamente ha coinvolto 15 città. Per il 2020 l'impegno sarà, come si accennava prima, addirittura di 4 milioni e 2. Un impegno che coinvolgerà 100 città. Protocolli che abbiamo stipulato, prefetture, enti locali e comuni, per un'azione appunto che dicevo sinergica, che punta a garantire servizi di prevenzione e di controllo intorno alle scuole. Videosorveglianza, ovviamente, salvo che per le città come Firenze che hanno già acquisito delle risorse con altri progetti, formazione per quanto riguarda le polizie locali, potenziamento delle dotazioni per quanto riguarda i servizi antidroga delle polizie locali e non solo, e poi possibilità di assumere a tempo determinato vigili, che è importante. Firenze ne ha assunti tre. Sono azioni significative, ma come anche quelle di promozione di campagne informative. A proposito di campagne informative, lei è un'associazione che si occupa anche di parlare, immagino con i ragazzi che fanno uso di droghe, di sostanze stupefacenti, e questo piano quanto ha influito? Ci sono dei dati che adesso possiamo vedere su alcuni numeri. Sono 598 le scuole che hanno aderito, sono 26 mila gli agenti di polizia, 13 mila le operazioni. Insomma, un piano veramente molto vasto. Senta, questo piano non solo è importante, perché naturalmente controlla, previene, ma è un piano assolutamente necessario. Sono molto contenta che sia stato ampliato. Noi abbiamo dei dati in Italia su cui molto poco si riflette, sono dati importantissimi. Dal 2013 noi abbiamo raddoppiato il numero dei minori che fa uso di stupefacenti. Addirittura negli ultimi due anni abbiamo raggiunto un limite massimo, perché abbiamo praticamente i giovani italiani che sono quelli che utilizzano droghe leggere in più di qualsiasi altro paese in Europa. Abbiamo perfino superato la Francia. Quindi di fatto oggi, e questo ce l'ha detto poco tempo fa anche una relazione del governo sulle sostanze stupefacenti, praticamente un quarto della popolazione studentesca italiana fa uso di droghe leggere in Italia. Ed è allarmante, veramente. Ed è un dato allarmante. Ma poi non solo, siamo al quarto livello, in questa terribile graduatoria, al quarto livello come utilizzo, come abuso di ecstasy e di cocaina sui giovani. Guardate che anche nelle nazioni dove è stato scelto comunque di legalizzare la droga leggera non è permesso ai minori di farne uso. Cioè questo dato è molto importante. Dobbiamo prenderne atto psichiatri, pediatri, operatori delle comunità. Perché i giovani, parliamo di ragazzi compresi... Sempre più giovani. Fino adesso abbiamo anche i ragazzini di 12-13 anni che fanno uso di queste sostanze. L'uso della droga è diventato quasi, diciamo, normale. C'è una mancanza di percezione da parte dei giovani di quello che rappresenta fumare, utilizzare una droga leggera. Quindi il messaggio che deve essere dato dagli adulti deve essere un messaggio chiaro. Drogarsi non è normale. Noi stiamo parlando di sostanze psicoattive. Dagli adulti ma anche dallo Stato abbiamo visto l'aumento di questi fondi. Insieme al lavoro delle istituzioni è prezioso quello delle comunità di recupero, come la Exodus della Val Camonica. Siamo in provincia di Brescia. È andato per noi lì Andrea Vincenzoni. La droga ti svuota. La cosa peggiore che può fare in un umano è che gli svuota i sentimenti. La comunità si basa sul consiglio di Don Antonio Mazzi che mi ha detto un tavolo grande, un cammino e un padre. E poi è nata questa idea del lavoro. Il lavoro per autosostentamento della casa, il lavoro da dignità alla persona, ti insegna a rispettare le regole. E nel lavoro se non sei pulito tu non ce la fai. Qui ho trovato delle persone molto brave, buone, soprattutto buone. Guardano proprio il lato umano della persona, quindi scavano nel profondo, cercano di tirar fuori tutte le tue fragilità, cercano di migliorarti nel lavoro, come nella vita, con le relazioni con le altre persone. Ti fanno ricominciare, diciamo, a avere un po' di coraggio. Come puoi vedere la casa è grande, però ci arrangiamo, nel senso che la farina non la compiamo, ce la facciamo, la frutta ce la produciamo, il riscaldamento ce lo produciamo. Qui i lavori principali sono veramente lavori educativi. Il camioncino è un progetto che è nato per il sostentamento della casa, per comunque dare la possibilità a un ragazzo di avere delle responsabilità sue, di riuscire a portare avanti una cosa che è quella fuori dalla comunità. Viene gestito con i nostri prodotti, perché i prodotti vengono fatti in stalla. È tutto un lavoro che facciamo noi ragazzi della casa. Permettimi di salutare Don Antonio Mazzi, che è un caro amico, e gli effetti del suo lavoro si vedono. Si, si vedono. Allora, parlavamo prima dei giovanissimi, sempre più alle prese, purtroppo con la droga. Sorrentino, neurologo, lei va spesso in giro per le scuole a parlare di droghe con i ragazzi molto giovani, e mi ha stupito questo dato, cioè che la dipendenza da cannabis in un cervello in formazione può avere degli effetti devastanti. Ma diciamo subito che l'aggettivo qualificativo leggero riferito alla cannabis è falso e pericoloso, perché la cannabis ormai ha perso la sua innocenza. È importante che noi focalizziamo la nostra attenzione sull'adolescenza, età che va dagli 11 a 21-23 anni, si parla di tarda adolescenza. Ecco, in questa fase meravigliosa della vita dei giovani, si contraddistingue però per un'alta propensione al rischio e al pericolo, perché il loro cervello è un cervello a trazione emotiva, il cui pilota è l'amigdala, cioè l'interruttore, l'epicentro delle loro emozioni. Allora, bisogna cogliere questo concetto, perché? Perché molto spesso la cannabis, che leggera non è, in soggetti predisposti è come andare a svegliare il cancro e dorme, perché attiva tutta una serie di disturbi, e forse non tutti sanno che oltre il 50% delle malattie, dei disturbi psichiatrici fa il suo esordio proprio nell'adolescenza. E quindi noi che cosa andiamo a innescare? Attacchi di panico, depressione? Io non sono proibizionista, preferisco informare, piuttosto che terrorizzare. Allora, che cosa andiamo a disturbare noi? Il cervello in tutta la fase dell'adolescenza si comporta come una sorta di giardiniere, cioè che cosa fa? Il potatore. Quindi va a eliminare tutta una serie di circuiti superflui per dare poi l'assetto, la configurazione definitiva di quello che sarà il cosiddetto cervello maturo. Ora, è giusto quello che si diceva prima, è cambiata la percezione, si è abbassata la soglia di quella che è la percezione di un rischio. Io vado nelle scuole, mi porto un cervello, per qualche minuto gli parlo di musica rock e poi apro questo cervello e gli faccio vedere il tragitto, l'itinerario, il percorso dell'autostrada che la cannabis ha nel cervello. E vado ad attivare nei soggetti predisposti tutta una serie di disturbi che una volta che iniziano, attenzione, molto spesso è difficile tornare indietro perché quando la malattia psichiatrica fa il suo esordio legato all'uso di queste sostanze, ahimè anche occasionale, è molto difficile tornare indietro. Allora ci vuole una grande consapevolezza. Io vorrei fare una proposta, se mi è consentito. Vedete, la RAI sta mostrando grandissima attenzione e sensibilità a questo tema e io vi ringrazio. La RAI è il principale editore italiano. Ecco, la mia proposta è che possa essere promotrice, la RAI, di una campagna istituzionale interministeriale insieme al Ministero della Salute, al Ministero della Pubblica Istruzione per creare degli spot d'autore accattivanti. Perché guardare, i veri frattori protettivi oggi sono l'informazione corretta, continua, costante. È quella che stiamo dando oggi, è che la RAI, come così, ogni giorno si impegna a fornire a tutti i nostri telespettatori. È un impegno costante questo della nostra azienda. Io a volte discuto con i genitori, perché i genitori dicono vabbè, ma una cannabis non ha mai fatto... Ma non è così. Volevo chiedere al prefetto di Firenze, Laura Lega, e ormai da più di un anno andate formando anche gli insegnanti. Facciamo un primo rapido bilancio? Assolutamente sì. Il professor Sorrentino ha detto una cosa sulla quale concordo al 100%. Noi dobbiamo lavorare, lo Stato lo sta facendo, in maniera strabica. Dobbiamo lavorare ovviamente in termini di repressione, narcotraffico, spaccio, ed è quello che si sta facendo in maniera forte, ma in parallelo si deve lavorare necessariamente in termini di prevenzione, informando, giocando questa carta che è fondamentale, anche mutando quella che è la narrazione sociale. Noi lo stiamo facendo perché accanto ovviamente al progetto Scuole Sicure, Firenze è partita, la progettura è partita già da tempo con un progetto sul territorio dedicato alle scuole, Scuola Sicura, dove abbiamo coinvolto, oltre le forze di polizia, gli assistenti sociali che sono preziosi nei nostri nuclei, nella prefettura, e che sono un osservatorio privilegiato, con le scuole. Formiamo i formatori, perché a loro volta... Diciamo che da lì può partire un modello per tutta Italia. È anche perché appunto la formazione è importante anche per capire e scoprire quali sono le nuove droghe. Abbiamo parlato di cocaina, cannabis, ma ci sono delle droghe sintetiche che oltretutto si trovano nel mercato illegale, in internet, che sono nocive, tipo l'NPS. Sì, assolutamente. Quindi noi abbiamo un aumento incredibile dell'utilizzo di cannabis, di cocaina, di anfetamine, ma poi abbiamo tutte queste nuove molecole. Sono l'NPS, sono nuove sostanze psicoattive, e creano dei danni a volte irreparabili. Sono create in alcuni laboratori chimici, naturalmente clandestini. Molti di questi si trovano in Cina, nei paesi dell'Est. Sono vendute online. Non diamo alibi ai giovani, perché più dannosa della cannabis è l'alcol e il tabacco. Quindi quando vado nelle scuole dicono ma perché l'alcol, rispetto a una tossicità sul cervello degli adolescenti, è superiore come danno rispetto alla cannabis e al tabacco. Grazie a Rosario Sorrentino, grazie a Barbara Ciavò, che conosco da anni e non invecchia mai, come il suo impegno che è sempre fresco. Grazie a Laura Lega, prefetto di Firenze.